Pietro P. Sindrome dissociativa. Decreto di ricovero numero 3029. Parla poco, sottovoce, teso, in un continuo stato d'allarme. Non sono mai riuscito a scambiare due parole con lui. Quando lo invito nel mio studio, sfugge il mio sguardo. Si volta indietro, guarda la porta dalla quale è entrato, come se da lì temesse un'aggressione. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, con bulloni, serrature, viti, sigillo la mia stanza. Entrano soltanto i sogni, si accostano al ceppo, si aggrappano le faville, raggiungono il cielo con una capriola. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, mi investe l'uragano della realtà. Scardina la mia porta, ma guanta per i capelli, mi trascina fuori, mi spezza le gambe, mi scaraventa nelle rapide della disintegrazione. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, con bulloni, serrature, viti, sigillo la mia stanza. Scardina la mia porta, ma guanta per i capelli, si accostano al ceppo, si accostano al ceppo. Scardina la mia porta, ma guanta per i capelli, si accostano al ceppo. Gino L. Sindrome depressiva. Decreto di ricovero numero 571. Dice di sé, io sono nato morto. Tetro, scostante, nessuno lo avvicina. E lui non lo permetterebbe perché è convinto che gli altri ci cercano solo per usarci. Qualcuno disse che essere vivo è sentirsi fratello dell'uomo. Io non mi sento fratello dell'uomo. Nessun uomo si sente fratello mio. Io non sono vivo. Nessuno è vivo. La morte disse che il seme è prima che germogli. Angela E. Oligofrenie. Decreto di ricovero numero 2198. Vive serena. Non riesce a capire perché la gente piange i propri morti. Sale dalla terra di questo cimitero il cuore tenero dei giacinti. La vita e la morte raccolgono fiori. Oligofrenie. Oligofrenie. Non riesce a capire perché la gente piange i propriarii. Oligofrenie. 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 grazie a tutti grazie a tutti